Ciao a tutti, bentrovati in questo nuovo video, un salutone immenso da Max e torniamo a parlare di Grande Fratello Hip, edizione numero 7, perché ci sono, beh, più che novità c'è un cambio di programma. In pratica, dopo la veloce e quanto tristissima eliminazione di Riccardo Fogli per via di una parola molto brutta, ora la produzione è costretta a correre ai ripari e sembra infatti, sembra, non è detto che sia, che ora come ora ci sia un buco, un buco, come un buco, sì, nel senso che serve qualcuno per rimpolpare il tutto, nel senso che serve una persona, sì, senza tanti giri di parole. La produzione sembra quindi convinta di far entrare altre, non una, non due, tre persone, signori, tre, eh sì, che di VIP però hanno poche niente, quindi sono sconosciuti? Da quel che si dice, il giornalista Gabriele Parpiglia, Casa People, ha detto stanno per barcare la Porta Rossa tre nuovi concorrenti, ma chi sono, eh, i tre porcellin? Cioè, devono avere un nome, un cognome, un qualcosa? Sembra ormai quindi non esserci più dubbio sull'entrata dell'ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, fuori il primo. Il giovane, fino a poco tempo fa, fidanzato con l'ex corteggiatrice Chiara Rabbi, questo sarebbe, diciamo, il primo reality, la sua prima grande esperienza? Vabbè, in televisione già c'è stato, quindi qualcosa già sa fare. Da quel che si dice sempre a Casa People, Donadei entrerà in gioco nella puntata che ci sarà il 17 di dicembre. Proprio a ridosso del Natale, quindi un po' di giorni dopo, sarà il momento di accogliere altri due semi-vipponi, quindi qualcosa a che fare con i VIP ce l'hanno. Parliamo di Nicole Murgia, sorella del calciatore della spalla Alessandro Murgia, ed ex migliore amica dell'influencer Vittoria De Ganello e il difensore Andrea Maestrelli. Se qualcuno in questo momento sta dicendo ad altavoce chi? Chi? Sappiate che è del tutto normale, perché sembra che i due abbiano avuto un flirt la scorsa estate ed è forse questo l'esperimento di Alfonso Signorini. Lo sapete che Signorini è furbacchione e vuole infilare delle persone per creare delle dinamiche? Questo lo sapevamo, ed è così, infatti. Chiaramente i due ex fidanzati si ritroveranno così a condividere l'esperienza di vivere nella stessa casa con tante altre tentazioni, una roba che il grande fratello ha già sperimentato, certo, ve lo ricorderete, no? Con solo il sorge Gianna Maria Antinolfi. Unica cosa interessante saranno le ultime informazioni che la donna porterà riguardo la gravidanza di Vittoria De Ganello. E poi parliamo della corteggiatrice di uomini e donne che fino a qualche mese fa era legata al fratello. Sembra infatti che Vittoria sia stata mollata dal fratello della nuova concorrente appena avrebbe saputo della gravidanza. Certo, sono notizie che non è che fanno piacere, però sta di fatto. Un fatto di cui ancora si sa davvero poco e che sicuramente verrà portato alla ribalta, si entrerà all'interno della casa, salteranno fuori tutti gli altarini, ma si sa che è così. Quindi tutti pronti a creare delle dinamiche e noi tutti pronti a seguire le dinamiche. Detto questo, un saluto grande da Max, lasciate il vostro segno qui sotto, noi ci ritroveremo per un prossimo video, sempre su Pausa Caffè.